andiamo a Genova benvenuto Giuliani e allora in alto il cuore esulto per il Genoa Danilo si contento si felice è arrivato il gol del Genoa gol di Thiago Motta parte del Piero con il destro gol 1-1 del Piero portiere da una parte pallone dall'altra attenzione ancora Thiago Motta il gol del 2-1 doppietta del grande brasilero calcio d'agolo di Juric stacco spettacolare di Thiago Motta GOL! 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 Vincenzo! Iacquinta e altro gol di Iacquinta bella azione con Nese che lo mette avanti al portiere pallonesto di Iacquinta gol e 2-2 Vincenzo e Iacquinta attenzione Rossi solo contro Buffon si presenta guardia Buffon gol contro Piero e gol di Palladino mamma mia Marazzi è al momento del lancio? al momento del lancio da centrocampo poi ripeto noi seduti qui con la mondione noi non lo vediamo Giuliani io sono qui seduto eh sono i commentatori stiamo... aspetta Halt però beh però c'è un piede lì Giuliani! Giuliani! sul discorso abitare mettiamola così visto che in sequenza mi sono preso stasera del ladro quando mi hanno annullato un gol buono del ladro quando mi sono preso un rigore che c'era del ladro quando non mi hanno dato un rigore che c'era del maiale quando hanno espulso Camoranesi che forse non era da espulsione e del testa di cazzo ultimamente da uno che si definisce collega qua di Genova che non so per chi lavori quando gli ho detto che Rossi era fuori gioco ti dico che questa partita fosse successo il contrario altro che maiale testa di cazzo ma avrebbero detto che era un ladro mafioso quindi per l'ennesima volta ti dico complimenti allo sportivissimo pubblico di Genova che si riguardassero la partita e che andassero a rifare l'esame da giornalismo no no ma poi al di là voglio dire dell'episodio contestato o meno uno può rimanere della propria opinione senza insultare e soprattutto che hanno sbagliato persona perché adesso ci vediamo fuori hai ragione hai ragione no 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 cosa cosa in maniera buonaria adesso ci vediamo fuori perché la discussione continua perché hanno sbagliato persona no perché io a differenza loro ci vengo in trasferta io ciao